Andiamo a vedere il campo partenti di questa sesta corsa premio Fosco d'Assia con il numero 1 Orwell Griff, con il 2 Noir, con il 3 Never Be, con il 4 Little Games, con il 5 Petra Diamond, con il 6 New Hope, con il 7 Oxum seconda fila per l'8 Ninguno, il 9 Olaz e il 10 Nives non con il Raffaele Forino in sediolo a Noir numero 2, c'è Francesco Pettinari E' tutto pronto per il premio Fosco d'Assia la prova per 5 anni oltre di categoria F calli che si apprestano ad andare in partenza ricordiamo il campo partenti la prima fila per Orwell Griff numero 1 Noir numero 2, Never Be numero 3 Diddle Games numero 4, Petra Diamond numero 5 New Hope numero 6, Oxum numero 7 seconda fila per l'8 Ninguno, il 9 Olaz e il 10 Nives Gioco orientato sul numero 6, New Hope quando la macchina va adesso a condurre i concorrenti al punto di partenza si è ritratto intanto Oxum Allo stacco c'è la rottura di Noir che era andato al comando così rimane davanti il numero 6 di New Hope leader dopo 150 metri di corsa nei confronti del numero 4 Little Games, quindi Petra Diamond che segue la squalifica per Never Be così come per Ninguno e si va così adesso al completamento della piegata con sempre New Hope al comando la squalifica che riguarda Olaz e non Ninguno che invece va all'esterno alla fianco della battistrada 600 in 45 appena abbondanti da parte di New Hope che quindi si porta al fianco proprio Ninguno quindi più indietro gli altri capeggiati dal numero 4 Little Games quando siamo a metà gara continua il suo forcing Ninguno nei confronti di New Hope poi la seconda pareglia che è preda di Oxum quando siamo al chilometro che viene passato in 1'16 e mezzo desiste Ninguno e New Hope rimane così al comando ora si fa vedere per linee esterne anche Nives che va in terza corsia tentando di aggirare Petra Diamond quando siamo adesso alla metà della piegata conclusiva con l'attacco di Oxum che passa nei confronti di New Hope quindi Nives che ha rifatto tutto il gruppo e adesso si getta all'inseguimento del leader che però ha almeno un paio di lunghezze abbondanti di margine Oxum che comanda Nives che va all'inseguimento si fa vedere anche Little Games nel finale Oxum senza problemi viene a concludere mentre per il secondo Little Games riesce ad avere la meglio nei confronti di Nives 2 minuti e 5 decimi per Oxum Giampaolo Minucci pronto raddoppio dopo la vittoria di Marse nella corsa precedente il successo ora con Oxum per il training di Massimo Finetti colori della scuderia Bet in the Dark il secondo posto per un positivo Little Games che nel finale per linee interne riesce ad avere la meglio su Nives che deve accontentarsi della terza posizione 7 per il primo 4 per il secondo 10 per il terzo 1,15 e 2 15,3 la media al chilometro per questa sesta corsa 5,4 Grazie a tutti